Ti ascolto? Lei è un cappellano militare. Deve aiutarmi. L'esercito ha preso mio marito e non riesco più a trovarlo. Il nome? Gloria de Gomez. No, il nome di tuo marito. Pablo Gomez. Metal meccanico. Sì. Descrivimi il fatto. Lo hanno portato via da casa il 28 ottobre alle 6 di sera. Hanno sfasciato tutto, mi hanno buttato per terra. Mi hanno picchiato, mi facevano tante domande. Continuavano a picchiarmi e a farmi domande. Io volevo solo vedere mio marito, ma loro mi dicevano non guardare, non guardare, non guardare. Non guardare. Però io li ho visti tutti in faccia. E sapresti riconoscerli? Sì. Bene. Senti, io non riesco a trovarlo in questo momento. Quindi quello che ora dovresti fare è preparare una lista con i nomi degli amici di tuo marito. Così sapremo chi l'ha visto l'ultima volta e sarà più facile ritrovarlo. In nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Amen. Non parlate, chiede i nomi, chiede i nomi. Come? Chiede i nomi. Avanti il prossimo. Chiede i nomi. Non parlate, chiede i nomi. Non parlate, chiede i nomi. Non parlate, chiede i nomi. Chiede i nomi.